Bentornati su MyFootballGersey, rimaniamo in Africa per vedere la prima maglia del Cameroon usata nei mondiali in Qatar, in versione FAN, quella un po' più comoda dedicata ai tifosi. La maglia HOME ONE All Sports Cameroon 2022 è verde, con rifiniture rosse e gialle. Una grafica verde scuro copre la metà superiore della maglia. Il logo di ONE ALL SPORTS è centrato tra lo stemma dell'FA camaronense e l'emblema della testa del leone. ONE ALL SPORTS è un'azienda che ha le sue origini negli sport dei motori, fornisce ad esempio le divise ad alcune scuderie di Formula 1 come Virgin Racing e Marussia. Prima del 2022 non aveva mai fornito una squadra di calcio. Samuel Leto, presidente della federazione del Cameroon, ha rescisso unilateralmente il suo contratto con Lecoq e quindi il Cameroon ha siglato un accorto con ONE ALL SPORTS. La maglia mi piace, molto bella questa sfumatura, molto bello le rifiniture in giallo, una maglia che secondo me nella mia classifica prende 4 stelle. Il costo lo vedete qui sopra che per una versione fan fatta così bene e con tutti i numeri e le patch attaccate nel modo giusto è veramente bassissimo. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Troverete anche degli sconti legati alle quantità. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Nel frattempo spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1 metro e 75 e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione fan. della versione fan. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.